Tatiana Gatti a Buglie Puppe, quarta classificata questa sera ma devo dire che hai fatto un gran figurone Grazie, grazie, sono contenta Cosa ti porta sui palcoscenici a cantare? Sinceramente come contest non sono molto attiva, facendo appunto gare e non gare, è già qualche anno che non le facevo più Però questa sera eravamo diciamo liberi da impegni e quindi abbiamo... Ti sei buttata Esattamente, ho fatto un tuffo, un carpiato che è andato abbastanza anche di testa però Però ti sei divertita Sì assolutamente, ci sono delle persone che hanno lavorato, che hanno organizzato questo evento, molto professionali e simpatici Grazie Nonostante i maglioni Nonostante, il maglione non piace, il mio maglione è natalizio, io l'ho messo a posto per Natale E' un po' contro tendenza forse Mannaggia guarda vabbè, prossima volta mi metto anche in nero elegante Bravo, ti aspettiamo Dai, va bene, ok, grazie mille e complimenti Grazie mille a voi